L'Italia è ancora un paese che dispone di una notevole dotazione di acqua, ricca di precipitazioni, di una rete fluviale, lacuale importante. Tuttavia il cambiamento climatico ci mette di fronte ad una grande responsabilità, quella di saper utilizzare e riutilizzare bene il nostro patrimonio idrico. In agricoltura rendiamo la possibilità di costruire un grande made in Italy attraverso prodotti e servizi di qualità che richiedono acqua e l'agricoltura può essere la infrastruttura per difendere il miglior utilizzo dell'acqua e il suo sviluppo attraverso il riutilizzo delle acque reflue che sono impiegate negli usi civili. Attualmente solo il 4% di queste acque ha una destinazione agricola. Soprattutto c'è la possibilità di creare nel territorio agricolo una rete di piccoli e medi invasi in grado di raccogliere le acque e trattenerle anche per evitare fenomeni di ruscellamento veloce verso la pianura e quindi integrando il territorio collina-pianura per consentire la realizzazione di una rete di sicurezza del ecosistema e delle insediamenti urbani.